Grazie a tutti Per la tredicesima serie Alla 1 Charles Pietrese Alla 2 Sofia Spavento Alla 3 Emma Mengaldo Alla 4 Serena Moretto Alla 5 Irene Toniolo Alla 6 Marnell Jens Van de Reggesburg Alla 8 Francesca Maria Sperotto Sempre al comando della classifica provvisoria con 2.14.95 Chiara Bertazzo nel frattempo Chiara Bertazzo premiazione 200 stile libero esordienti a maschile consegna le medaglie il presidente natatorio entreviso Vincenzo De Sio Medaglia di bronzo Tommaso Bortoli Svinko Brixen 2.12.73 Argento Cristian Rossatto Acquambiente 2.11.54 Medaglia d'oro Gold Medal 2.11.48 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie.